Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato naturalmente al calcio mercato che entra nel vivo con una grande, grandissima protagonista delle ultime ore. Si tratta dell'Inter perché appena finito il summit in sede all'Inter tra Giovanni Carnevale e la dirigenza Nerazzura firmati i documenti, Davide Frattesi è un giocatore dell'Inter. Arriverà in serata a Milano, domani visite mediche, ultime formalità e poi verrà annunciato, ha scelto già il numero di maglia, sarà il 16, lo stesso che l'aveva accompagnato nell'ultimo biennio a Sassuolo, contratto leggermente più alto del previsto, non 2 milioni e mezzo ma 2 milioni e 8 a stagione per 5 anni, operazione complessivamente come abbiamo raccontato ieri da 33 milioni, contestualmente Muratì arriva al Sassuolo, contratto quinquennale per la punta ex Frosinone Spezia e dunque Davide Frattesi è il primo grande colpo dell'Inter che segue il colpo a 0 Turam, quindi pronti via ai primi di luglio, siamo al 5, l'Inter cala già due assi sul mercato ma c'è tanto da raccontare sull'Inter perché l'Inter non si ferma qui, Marotta e Ausilio vogliono prendere altri 5 giocatori, 5 acquisti programmati dall'Inter ma anche due cessioni, vi racconto tutto tra poco, per chi fosse capitato per la prima volta qui sul canale vi invito ovviamente a iscrivervi, più siamo meglio è, quindi insomma mettete il like al canale, condividete i video, lasciate i vostri commenti, i vostri feedback, perché le vostre opinioni mi fa sempre piacere leggere i vostri spunti, le vostre analisi, perché no, magari ogni tanto anche qualche consiglio che fa sempre bene ed è sempre ben accetto, aperta e chiusa parentesi, dicevo l'Inter programma 5 acquisti, il primo per ordine di importanza è l'attaccante, è Romego Lukaku perché nell'idea dell'Inter Turam prende il posto di Dzeko, vedremo poi cosa succederà con Corea, che può andare via, in presto con diritto di riscatto, c'è qualcosina in Italia ma non sono club di prima fascia, c'è qualcosina in Spagna, qualcosina in Inghilterra, lui ci ha rifiutato il Fenerbahce in Turchia, vorrebbe restare in Italia, si è appena sposato, insomma, sono andato a trovare la situazione giusta per Corea, non è facile ma la sensazione che alla fine possa andare, ovviamente a quel punto servirebbe un attaccante giovane di completamento, è stato proposto dall'Inter Federico Bonazzoli, utile per le liste essendo un prodotto del Vivaio Nero Azzurro, gestito da Tullio Tinti che è l'agente anche di Darmian Bastoni e Simone Inzaghi, ma è il colpo che l'Inter vuole fare in attacco ovviamente al ritorno di Gomero Lukaku, Lukaku che vuole solo l'Inter, Lukaku che ha rifiutato il Tottenham, Lukaku che ha rifiutato soprattutto una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita, da lì la 30 milioni a stagione per tre anni, il totale è 90, più un bonus alla firma, operazione da 100 milioni per il giocatore, 50 milioni di pound, al cambio sono 58 milioni di euro per il Chelsea, però non si è fatto nulla, lui ha detto di no, e quindi lui vuole tornare all'Inter, però il Chelsea dice, non te lo do più in prestito, te lo do in prestito oneroso, 5 milioni e all'Inter il prestito oneroso va bene, ma con l'obbligo di riscatto, l'Inter l'obbligo di riscatto vorrebbe fare non oltre i 30 milioni, il Chelsea vuole qualcosa in più, si ragiona, ma il vero scoglio sono i parametri che fanno scattare l'obbligo di riscatto, l'Inter vorrebbe collezionare a tot presenza almeno il 50% delle gare giocate da Lukaku in stagione, la qualificazione alla Champions League 2024-2025, il Chelsea invece vuole un obbligo molto più semplice, tipo la prima vittoria nel girone di ritorno dopo il primo di febbraio, quindi bisogna lavorare su questo aspetto, ma la sensazione è che alla fine Big Rom Lukaku possa davvero tornare all'Inter per la terza volta e Lukaku Tris stavolta a questo punto per sempre, visto che insomma firmerebbe un contratto di almeno 4 anni, considerato che ha già 30 anni, insomma sarebbe praticamente calcisticamente un matrimonio a vita, quello tra Romelu Lukaku e l'Inter e c'è ottimismo, ma dove trova i soldi l'Inter? Li trova da una cessione pesante, quella di Andre Onana, e qui entriamo nei primi due giocatori in partenza, Andre Onana è il grande sacrificio dopo Brozvic che l'Inter può fare sul mercato, Onana, che non è un mistero, dopo i sondaggi del Chelsea c'è il forte pressing dello United, che ha presentato nel suo sondaggio della prima offerta ufficiale, 45 milioni di euro, 41 di Pounce, 45 di euro al cambio, sterlina lì, euro, lì era, una volta, stavo l'Apsus Freudiano, non bastano però, non bastano, l'Inter vuole 60 milioni, bonus inclusi, 50 più bonus, sotto non vuole andare, non c'è una grande distanza, la sensazione è che come per Brozvic alla fine, un passo da una parte, un passo dall'alto, si possa trovare la quadra, anche perché Albert Bottiles, l'agente di Onana la settimana scorsa, ha fatto tutto con lo United, 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare quasi a 8, se United dovesse vincere qualcosa, più del doppio dei 3 milioni più premi che Onana guadagna a Milano, quindi capirete voi che, insomma, diventa difficile trovare una quadra, è vero che lui ha avuto un'offerta anche dal Nas, 10 milioni più bonus a stagione, ma Onana c'ha 26 anni, è al top in questo momento in Europa, è uno dei migliori poteri al mondo, non pensa ad andare in Arabia Saudita, nonostante in Arabia possa guadagnare il triplo, magari anche il quadro. Manchester United invece è una tentazione forte, anche perché in panchina c'è quell'Eric Ten Hag, che è vero che c'è stato un rapporto d'amore e odio, ma alla fine è il primo grande allenatore che ha dato fiducia ad Onana, ha puntato forte su di lui, c'è grande stima, Ten Hag vuole Onana e Onana è pronto a farsi sedure da noi United, però l'Inter sconti non ne fa, anche perché poi deve prendere il sostituto, l'idea in questo momento è di prendere un portiere giovane emergente, due nomi in quest'ordine di preferenza, Trubin che ha già esperienza internazionale, ha già fatto la Champions League per 3 anni con lo Shakhtar, tra l'altro l'Inter non sa qualcosa perché fece 2 volte 0-0 con lo Shakhtar, con Trubin migliore in campo da 8 in pagella con grandi miracoli, scade nel 2024, lo Shakhtar chiede 15, l'Inter vorrebbe fare 10 più bonus o 10 più una percentuale sulla futura rivendita, ha già l'accordo con il giocatore, c'è già stato un incontro positivo con il suo agente, ha caldeggiato anche Roberto De Zerbi che l'ha allenato allo Shakhtar al suo amico Piero Ausilio. L'alternativa è anche qui giovane, anche qui classe 2001, ma italiana, Marco Carnesecchi, consigliato da Ausilio Marotta da Riedobraid, che l'ha valorizzato in questi due anni a Cremona, che lo conosce bene, il cartellino dell'Atalanta, 15-18 milioni la valutazione, costa un po' di più, portiera dell'Under 21, anche qui parliamo di un ragazzo comunque con grandi potenzialità e destinato a diventare un grande portiere in futuro, e l'Inter, insomma, sta riflettendo, sono un po' questi i due nomi nella shortlist al momento per il ruolo di estremo difensore. Vi dicevo, due uscite, perché in uscita c'è anche Robin Gosens, Bornemouth, Wolfsburg, Union Berlin, interessate, il giocatore sta ascoltando le proposte, l'Inter vuole i 15 milioni, non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Con la partenza di Robin Gosens, l'Inter ha già individuato il sostituto, già bloccato, nel senso che ha già d'accordo col giocatore, 2 milioni a stagione per 5 anni, che è Carlos Augusto, il brasiliano del Monza, anche lui scuderia per Iso, quindi come frattesi, c'è un canale importante in questo momento tra l'Iso e l'Inter, c'è l'accordo col giocatore, bisogna poi trovare la quadra col Monza, il 40% della vendita aspetta al Corinthians, quindi un'operazione articolata, una triangolazione tra Inter, Corinthians e Monza per trovare una soluzione che sono disfittuti, ma anche qui i dialoghi sono molto molto ben avviati, anche perché Carlos Augusto scade nel 2024, non sta rinnovando e quindi alla fine, insomma, tante strade portano, se non quasi tutte, portano alla Milano Nerazzurra. Inter però, che dicevamo, Lukaku, Carlos Augusto, il portiere, ma ne deve prendere altri due, deve prendere un sesto centrocampista centrale per completare il reparto, c'è questa idea Tucho Pereira proposta da Pastorello, non esalte i tifosi, non è una prima scelta per l'Inter, va detto, ma può essere un'occasione, come è stato per Acervi, Pastorello è un agente tenace, perseverante, Tucho Pereira vuole tornare in un grande club, ha 32 anni, comunque un giocatore fisicamente intero, che ha fatto bene negli ultimi anni a Udine, che potrebbe dare il suo apporto di dinamicità, fosforo a centrocampo, ed è un'idea che l'Inter sta valutando, non è l'unica, ma c'è anche questa idea. E poi il difensore, il difensore al posto di Skriniar, perché Bischek, giovane di talento, potenzialità importanti, prende il posto di D'Ambrosio. Il posto di Skriniar torna in auge Mary De Miral, in rottura, con Gasperini, lui e Palomino andranno via, Atalanta che ha chiuso per il terzino sinistro Bacquer, 10 milioni dal Leverkusen, ha chiuso per Colasi, Naccia a zero per la difesa, ha messo in uscita Palomino, Colasi, Naccia prende il posto di Palomino, e ha messo in uscita anche De Miral. E vuole Ien del Verona come sostituto. De Miral vuole l'Inter, ha avuto offerte da club importanti turchi, li ha messi in stand-by, ha avuto qualcosina anche da altri club in Inghilterra, ma lui vuole una big, vuole l'Inter, si è promesso all'Inter, era già stato vicino a gennaio, bisogna trovare l'accordo con l'Atalanta, l'Inter vuole fare prestito con diritto di riscatto, l'Atalanta vuole l'obbligo. L'Atalanta vuole 15-20 milioni, Inter valuta a De Miral 12-13. Quindi c'è da lavorare, ma la base, insomma, tra il giocatore e l'Inter come accordo c'è già, e da lì si ripartirà per arrivare a Dama, insomma, anche con l'ausilio dell'agente Paolo Busardò, che è in ottimi rapporti col club nero-azzurro. Insomma, direi che in casa Inter di carne al fuoco ce n'è tanta, poi nei prossimi video ovviamente parleremo anche di tutte le altre big, ma oggi è veramente un Inter day, perché tra il colpo frattesi e le altre mosse l'Inter sta accelerando tanto sul mercato. In uscita ci sono alcuni giovani, un ristagno diretto in prestito al Cagliari, Pio Esposito c'è in Pollo Spezza, per Sebastiano Esposito invece iniziamo a versi qualcosa e vi racconteremo tutto nei prossimi giorni. Grazie di aver stati in mia compagnia, ci vediamo nelle prossime ore, domani, adesso non so ancora quando, per altri video di mercato, restate connessi, attivate la campanella in alto a destra per avere le notifiche in temporale su tutto ciò che va online e viene prodotto, iscrivetevi al canale, più siamo meglio è, più ci divertiamo, lasciate i vostri commenti, vi piace quest'Inter che sta nascendo, o puntereste su altri calciatori, ditemi la vostra. Ciao a tutti, a domani.